Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto per Luigi Bersani, leader storico della sinistra, buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, buonasera Annalisa Terranova, vice direttrice del Secolo d'Italia e buonasera Luca Telese, giornalista della piattaforma giornale radio, collegato con noi da Nuoro, perché come sapete domenica si vota in Sardegna dove oggi è andata anche Giorgia Meloni a fare un infuocato comizio, subito dopo la pubblicità. Luigi Bersani, allora lei è a Nuoro dove il nostro collega Luca Telese ha appena finito di moderare, di presentare un comizio che lei ha fatto insieme alla candidata del centro-sinistra Alessandra Todde, però credo che abbia fatto meglio la Meloni nel suo comizio stasera, perché è stato un comizio infuocato con il miglior repertorio populista, ha detto che con lei l'Italia è tornata incredibile, ha cambiato tutto il paese, dall'immigrazione alle tasse e che la sua coalizione è unita, mentre voi è attaccato voi del centro-sinistra, perché ha detto che con il vostro esperimento del campo largo state trattando i sardi come cavie. State trattando i sardi come cavie? Ma basta che se la Meloni esce dal palazzetto dovere, fa un giro in Sardegna, si rende conto che non c'è niente di romano in questa vicenda del centro-sinistra, c'è un'adesione di popolo che sta crescendo tutti i santi giorni attorno a una candidata molto forte che interpreta largamente l'idea di una sinistra moderna, democratica, progressista, con dei contenuti molto chiari, molto forti. Invece penso che tutto il mondo, almeno in Italia, abbia visto come si sono congegnati loro trattando a Roma la Sardegna. Si è visto, no? Ha tirato via Solinas per mettere il Citrusso, Solinas ha cambiato il cavallo, i cavalieri sono sempre quelli e credo che piuttosto di parlare di cavie che evocano indirettamente un tema che si chiama sanità. Lei, la Meloni, faccia un giro in tutta la Sardegna e chieda cosa pensano i sardi della sanità in questa regione. Una regione che per numero di abitanti ha più medici dell'Emilia Romagna e che è riuscita a vedersi ridotta in una confusione e in un disagio incredibile. La destra è questa, è inutile che parli di cose, dei grandi successi della destra in Italia. Venga qui in Sardegna, esca dal palazzetto, faccia un giro e poi si chieda come mai c'è questa movida di quelle forze che chiamiamo centro-sinistra, ma sono sardi che hanno voglia di cambiare e che se la stanno giocando seriamente. Se la stanno giocando seriamente, questo poi lo vedremo, alcuni sondaggi dicono esattamente questo, però voi del centro-sinistra, il cosiddetto campo largo, cosa vi state giocando con queste elezioni? Perché siete pure divisi, perché l'ex governatore Soru è andato per i fatti suoi. Io credo che questa non è una regione dove un posto per gli esperimenti, qui si sta parlando di una riscossa sarda, punto e basta. Dopodiché qui effettivamente in Sardegna c'è stato anche un pezzo del mondo democratico che non ha seguito il progetto dell'Alessandra Todde. Questo mi spiace molto, devo dirlo personalmente. Cosa sto dicendo qui? Sto dicendo amichevolmente, proprio anche con una punta d'affetto, perché la vicenda di Soru l'ho vissuta anch'io nel 2004, che è incredibile che Soru combatta contro se stesso, perché lui vinse allora perché era profondamente sardo e profondamente innovatore moderno. Alessandra Todde, venti anni dopo, è profondamente sarda, profondamente innovatrice. Dopodiché vedremo, certo anch'io lo so che Soru non può vincere ma può far perdere. Dopodiché i cittadini hanno in mano la decisione, hanno capito che si gioca di poco la questione. Anche perché ricordiamo che nelle elezioni regionali il sistema elettorale non prevede il ballottaggio, quindi la coalizione che prende un voto di più vince. Senta Bersani, Giorgia Meloni invece cosa si sta giocando con queste elezioni sarde? Ma io credo che in questo momento le cose per il centrodestra cominciano a coprirsi di punti interrogativi. Io credo che loro farebbero spallucce, per l'amor di Dio, ma insomma le contraddizioni prima o poi arrivano. In questi giorni sono giorni nei quali due vicepresidenti del Consiglio su un oggettino come la morte di Navalli hanno due linee abissalmente diverse e mostrano plasticamente una destra che è indifferente alle questioni di principio e di valore e è solo lì per tenersi quel pezzo di ruolo e di potere, mettendo l'Italia via via in situazioni ambigue e difficili. Questo lo si vede, più che le robe sarde che ripeto, io penso che sia la Sardegna che bisogna andare a riscossa, il resto lo vediamo. Certo, se parte uno squillo di tromba da qui, questo fa bene a tutta la compagnia come si dice, ma qui i sardi devono pensare a loro stessi adesso. Uno squillo di tromba, se parte dalla Sardegna poi raggiungerà tutta l'Italia. Annalisa Terranova è troppo ottimista, Bersani cosa si sta giocando questo centrosinistra e Giorgia Meloni con la sua coalizione? No, ottimista deve esserlo perché chi fa una campagna elettorale naturalmente deve presentarsi con un certo ottimismo, altrimenti che ci va a fare. Quindi io rispetto il punto di vista di Bersani, però vorrei sottolineare una cosa che è questa. Io mi ricordo le amministrative del 2022 in giugno e si fece anche in quel caso un gran parlare del caso Verona, dove era candidato Tommasi, se non ricordo male, ed era appoggiato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e si disse, ma se Verona, se cade la roccaforte della destra, Verona sarà una vittoria storica, eccetera, eccetera, ed in effetti Tommasi vinse e anche in quel caso si disse che era una vittoria epocale, lo squillo di tromba che ha evocato Bersani vinse, si disse che era una vittoria epocale, che era una vittoria storica e che era una vittoria che avrebbe potuto risuscitare il campo largo, eccetera, eccetera. Dopodiché ci sono state le elezioni politiche e il campo largo si è presentato frantumato e quindi io direi che tutti i test sono molto importanti ed ovviamente tutti si giocano molto. Giorgia Meloni si gioca moltissimo, anche lei, perché questa sera praticamente in questo comizio, quando ha detto io conosco Truzzo da vent'anni e non perché andavamo in discoteca o perché andavamo a mangiare fuori, ma perché facevamo politica e quindi uno che viene come me dalla vecchia scuola politica è un amico, lo conosco, mi fido, eccetera, è come se avesse detto praticamente il voto a Truzzo è un voto anche a me, alla mia attività di governo, quindi è chiaro che si è messa in gioco anche con questo comizio, eccetera. Però tutti i test sono importanti, ma il vero test io penso saranno le elezioni europee, quindi è chiaro che si giocano molto, che tutti quanti guardano con ottimismo a questo risultato e vediamo come va, insomma. Però io ricordo il precedente Verona che non è stato proprio... Sicuramente anche lei se lo ricorda e intanto Giorgia Meloni stasera ha detto che voi andavate in discoteca a mangiare fuori, mentre il suo candidato Truzzo è militante da vent'anni che si occupa dei problemi veri. Quindi insomma siete un po'... e la Todd ha ironizzato molto la Meloni stasera sulla candidata del centro-sinistra riducendo tutto il suo programma all'antifascismo. Quindi insomma ha giocato molto d'attacco la Presidente del Consiglio che ha anche ironizzato sul fatto che non c'è bisogno di farsi chiamare la Presidenta, vorremmo dire alla Presidente del Consiglio che è il o la Presidente del Consiglio. La Presidenta, non so, qualche problema con la grammatica ha qualcuno. Quindi Versani. Ma insomma, la Meloni ironizzi sulla Todd mi fa abbastanza sorridere. Sta parlando di una signora abbastanza giovane ancora, anzi giovane, che sa cinque lingue, ha lavorato in otto paesi, una di queste lingue è il sardo, tanto per capirci, che ha un programma che basta andarselo a leggere. Certo che l'antifascismo non è mica una nocciolina, eh? Cioè dall'antifascismo derivano dei fatti. La Costituzione antifascista non è solo nel senso che impedisce la ricostruzione del partito fascista, ma antifascista nell'articolo 3 dell'uguaglianza, dove parla di diritto alla salute universalistico, dove parla di progressività fiscale, dove parla di discipline e onore nelle funzioni pubbliche. Cioè, tifascismo sono noccioline. Ecco. Dopodiché, se lei ha fatto politica tutta la vita, io mi inchino e le dico, io ho pettinato le bambole tutta la vita. Sai cosa c'è? Ecco, lei ha pettinato le bambole, da qualche decennio la conosciamo, ce la ricordiamo in un'altra versione, ma e siccome so che... No, beh, hanno fatto tutto loro, no? Hanno fatto tutto loro. Sono delle eroine, degli eroi, delle vittime e di tutto quanto. Hanno fatto tutto loro. Gli altri sono tutti dei debocciati e ciao. E va bene. Va bene così. Avanti. Quindi so che adesso deve andare a pettinare altre bambole, quindi la lascio al suo tour sardo. Grazie per Luigi Bersani. Voglio sentire Andrea Scanzi. Quindi, nonostante oggi sia Meloni che Salvini che Tajani abbiano ripetuto che sono uniti e che sono coesi e solidi, le cose stanno davvero così e questo comizio di Meloni stasera, così appassionato, cambia di molto le carte in tavola per questo voto? E quanto si gioca anche lei? Allora, sicuramente il centro-destra è molto più unito del centro-sinistra e ci vuole anche poco. Da qui a dire che siano coesi e granitici, come ha lasciato intendere oggi la Meloni, no. Io credo fermamente che Meloni e Salvini abbiano rapporti ai minimi storici e credo che Salvini sarebbe in cuor suo anche un po' contento se Domenica perdesse le elezioni, perché di fatto le perderebbe più la Meloni che Salvini, a quel punto Salvini ricomincerebbe a prendere un po' di peso, di pigolo, come diciamo dalle mie parti. Perché è ovvio che nelle ultime settimane e negli ultimi mesi la Meloni giustamente sta decidendo tutto dentro la propria alleanza. Ha deciso, questo candidato lo metto io, questa cosa la faccio io, lei da qui a giugno vuole fare il vuoto non solo nei confronti dell'opposizione, ma anche dentro l'alleanza, in maniera tale che dopo le europee possa dire a Tajani, e tutto sommato dire lo Tajani è facile, ma anche a Salvini adesso comando io. Se perde domenica non cade il governo, non si avranno delle rivoluzioni copernicane, ma sicuramente se capitasse sarebbe il primo ammacco vero della Meloni da quando è Presidente del Consiglio. Ciò detto, il rischio maggiore lo corre al centro-sinistra. E noi abbiamo appena ascoltato Bersani, quello che sta succedendo ed è successo in Sardegna è esattamente in versione bonsai, lo dico con il profondo affetto nei confronti della Sardegna, ma in piccolo quello che capita sempre può capitare in Italia. Perché al di là del caso Soru, che fa anche ridere, perché Soru non si è capito bene perché si sia staccato, è appoggiato da Calenda, rifondazione comunista, poi ci sono gli estremisti della sinistra, di Liberu, poi c'è Italia Viva, cioè non si capisce chi cavolo lo appoggi. Però effettivamente anche su scala nazionale c'è una buona parte di elettorato e di partito democratico e di 5 Stelle e di alleanza verde-sinistra che crede nel campo largo. E poi chi c'è? C'è Labonino, c'è Calenda, c'è Renzi che non credono in questo progetto. E se domenica perde la todde, e può perdere perché fino a tre giorni fa era nettamente sfavorita, poi improvvisamente la destra ha paura e già questa è una notizia, ma se perde, io sono sicuro che Calenda ricomincerà a dire, avete visto? Con i 5 Stelle il PD non ci deve stare. E Renzi dirà la stessa cosa e soprattutto dirà la stessa cosa quella parte del Partito Democratico che non vede l'ora che la linea profondamente schleniana di Elie Schlein fallisca per poter dire hai sbagliato, torna a fare quello che vogliamo noi. Quindi a oggi secondo me rischia di più il centro-sinistra proprio perché potrebbe essere un colpo, non dico mortale, ma molto forte al campo largo inteso proprio come lo vede Bersani. Sei d'accordo Luca Telese? Perché siccome tu stai seguendo da giorni molto da vicino la campagna elettorale sarda, sei lì e quindi hai anche molto di più il polso della situazione. Intanto è vero che nei momenti clou la destra-centro o centrodestra, che dir si voglia, è e resta unita, cosa invece assolutamente non vera per il centro-sinistra. Ricordava Soru, Andrea Scanzi, che sensazione hai da quello che succede in questi giorni? Che abbiano capito gli elettori del centro-sinistra che c'è bisogno di un voto utile o cosa si figurano, cosa si immaginano? Allora ti dirò che quello che avete detto in studio è molto vero. Annalisa e Andrea hanno fatto delle analisi che però sono compatibili. È accaduto questo in Sardegna, che il Presidente uscente è stato rottamato, l'ho chiamato nel suo linea scidio, a 20 giorni dal voto ed è stato rottamato perché Giorgia Meloni ha detto tu te ne vai, eri un uomo di Salvini, il potere in quella regione lo deve gestire un uomo. I Fratelli d'Italia ci ha piazzato un candidato suo, ma lo stesso vuole fare in Veneto. Quindi la Sardegna è molto un caso nazionale perché Salvini, vi ricordate, chiese i poteri. La Meloni è più intelligente, non li ha chiesti, ma se li è presi. E questo ha creato un'onda enorme nell'opinione pubblica sarda. Oggi c'erano migliaia di persone a sentire la Meloni alla fiera, ma ovunque migliaia, in tutti gli appuntamenti del centrosinistra, a Nuoro c'erano le persone apprese a Lampadario, ho visto delle folle veramente anni 50. E dal basso è venuta questa spinta per un'alleanza. Ora io ho scritto sull'irone sarda che le elezioni regionali sarde sono un po' come il midterm in America, cioè sono la cosa che darà le carte prima dell'Europe e prima di altre importanti elezioni regionali. Sta accadendo e ti do due pennellate di cronaca. Il nome di Truzzo per tutti i primi giorni della campagna elettorale fino a queste ultime ore non era nei manifesti. C'era scritto elezioni regionali, poi c'era un grande slogan, forte e fiera e c'era solo la Meloni. Cioè la Meloni dice io tolgo quest'uomo e io traino il mio candidato. Quindi la grande domanda è questo riuscirà. Seconda cosa è Soru. Soru sta occupando, in realtà si dice la sinistra è divisa, ma non è divisa perché Soru sta occupando un'area che in Sardegna c'è sempre stata quella dell'autonomismo sardo, quindi la sua giacca di velluto lo rappresenta bene, come a volte indipendentista, che più o meno prende il 10%. Il resto è una fotografia di una regione divisa in due, più o meno come lo è l'Italia. E infine l'ultima cosa buffa, c'è persino una questione di genere, Lilli, perché quando Soru ha rotto la coalizione dicendo io non voglio questa candidata, la figlia Camilla, che ora è candidata con il centro-sinistra, ha detto no, tu da patriarca stai rifiutando una candidatura donna e io mi oppongo. Quindi pensa quante storie ci sono qui che si uniscono. Annalisa Terranova, quante storie oggi in questo lungo comizio, perché è durato 40 minuti il comizio di Giorgia Meloni, 40-45, più o meno, non ha rivendicato un risultato, ha detto Schlein subito dopo, dell'operato del centro-destra negli ultimi 5 anni, perché ricordiamo che la Sardegna ha avuto un governatore della destra, del centro-destra, il leghista Solinas e non ha detto niente, cioè ha rivendicato i suoi risultati veri o presunti del suo governo e della sua maggioranza, ma niente di quello che ha fatto il candidato, il governatore del centro-destra in questi ultimi 5 anni. E c'era poco da rivendicare, se l'hanno cacciato, anche la Terranova sa che se l'hanno cacciato c'è poco da rivendicare, hanno definanziato per dire tutte le principali opere, fra cui la 131 che è l'autostrada che unisce la Sardegna. Allora no, io volevo invece dire un'altra cosa, che era questa, che prima della Meloni ha parlato Truzzo ed evidentemente si sono divisi i compiti. Io Truzzo ho sentito soltanto la parte finale dell'intervento, quindi non saprei dire se ha rivendicato o non ha rivendicato. Però chiaramente lei è andata lì come Presidente del Consiglio e naturalmente ha parlato dell'attività del governo. Mi sembra tutto sommato la critica di Schlein un po' decentrata rispetto alle cose che ha detto Giorgia Meloni, che sono state sostanzialmente quelle che lei ripete, io non ho trovato neanche particolarmente infuocato, l'ho trovata la solita Meloni, né particolarmente aggressiva né particolarmente spenta. Le avversarie li ha definiti rabbiosi, li ha definiti... Beh, rispetto a come definiscono lei, insomma non mi sembra che sia stata particolarmente offensiva, veramente. Ah, ti dici che poteva dire di peggio. Beh, insomma rispetto a quello che gli è stato detto pochi giorni fa dal Presidente della Regione Campania, insomma poteva anche essere più accesa. Quindi io questi toni accesi sinceramente non li ho colti. Lei ha detto io ho questa visione del governo, sto facendo questo, Truzzo lo conosco, non è qui per amichettismo ma per merito, fidatevi di lui, fidatevi di me. Ha fatto, diciamo così, l'onesto comizio di una leader in campagna elettorale. Poi ovviamente se vogliamo andare a trovare le sottolineature, le spigolature che possono in qualche maniera essere critiche, nei suoi confronti lo possiamo anche fare. Insomma io non lo so, allora io potrei dire delle contestazioni dei manifestanti, dei militanti pro Palestina e le Schlein, insomma sono dettagli. La partita, l'ha detto bene Telese o Scanzi, non ricordo, è una partita che incrocia anche la politica nazionale per tanti aspetti, però io ribadisco il vero test sono le europee, a parte che il 10 marzo si voterà anche in Abruzzo e là bisognerà vedere come va. Poi su questo vorrei dire, su questi test diciamo così regionali e locali eccetera, un aneddoto che è relativo alle elezioni del 2005 in cui Francesco Storace perde alla regione Lazio contro Marrazzo e quindi noi eravamo nella sala stampa lì attrezzata insomma per seguire il voto e Storace perde, quindi tutti quelli dello staff ovviamente mosci, delusi eccetera eccetera eccetera, a un certo punto uno fa, però abbiamo vinto a Rovigo ed è stato naturalmente, diciamo, è stato detto beh insomma chi se ne importa di Rovigo lo sto dicendo in maniera un po' più addolcita rispetto a quello che è stato risposto a questo militante, però per dire la Sardegna è sicuramente importante, è sicuramente importante, però qua per scalfire anche secondo quello che ci dicono i sondaggi, visto che i sondaggi sono importanti per parlare di possibilità di vittoria in Sardegna. Ecco mi sembra che la vittoria in Sardegna è eventuale, eventualissima poi, perché insomma si basa a un certo punto su questo fatto che io ho cominciato a leggere sui giornali che la destra ha paura perché c'è la possibilità di una sconfitta che c'è sempre in tutte le elezioni. È una competizione elettorale. Sì, ma insomma mi sembra un po' poco la vittoria in Sardegna per poter dire diciamo così che il governo Meloni, l'immagine di Meloni è scalfita in modo irrimediabile, ecco io penso questo. Questo non lo penso neanch'io. Andrea Scanzi. Intanto nessuno ha mai detto che laddove perdesse la Meloni sarebbe una sconfitta che renderebbe irrimediabile il suo percorso, la scalfirebbe così drammaticamente. Prendo atto che c'è a destra ed intorni un maniavantismo che sta crescendo perché negli ultimi giorni sento dire se anche perdesse la Meloni tutto sommato e vabbè dai alla Sardegna, roba che due o tre settimane fa non l'avrei mai sentito dire. Quindi evidentemente anche nel centro-destra c'è qualche sondaggio che lascia intendere. Immagino che no, no, ne prendo atto. Due settimane fa non sarebbe successo. Poi ho sentito Terranova. Prendo atto anche del fatto che è normale che un presidente del Consiglio, perché lei ha detto, tu hai detto che tutto sommato ha usato toni normali, prendo atto che per te sia normale definire gli avversari estremisti rabbiosi che gettano fango perché non possono dire niente di positivo. Vorrei vederli questi estremisti rabbiosi. Chi sono? La Todde? È un estremista rabbioso? Bersani che abbiamo appena sentito è un estremista rabbioso? Non riesco a capire. Altro elemento che vorrei citare perché si sta parlando qui di nomi ma non si capisce bene chi c'è dietro il nome. Prima avete detto la Meloni non ha rivendicato i cinque anni precedenti di Solinas e te credo e che deve rivendicare. Ma Solinas ragazzi ha fatto dei disastri in questi cinque anni. Ma dei disastri veri. Quindi ha fatto bene a far candidare Truzzo? Quindi ha fatto bene a candidare Truzzo? Che però è arrivato terzultimo nel gradimento tra i sindaci d'Italia. Appunto, appunto, se potevo finire avrei detto esattamente che se avessi potuto finire. Cioè Truzzo, chiedetelo ai cagliaritani quanto è stato bravo come sindaco. C'è questo piccolo particolare che Solinas ha fatto un disastro in questi cinque anni. Ma Truzzo, chiedetelo ai cagliaritani, è stato un sindaco pessimo. E quindi di nuovo la Meloni sceglie la sua nomenclatura non in base alla bravura ma in base a fa parte del mio cerchio magico. E la grande forza, secondo me, che può avere la Toddi è quello che è sempre successo in Sardegna dal 2004 in poi. Cioè che una giunta mai è riuscita a bissare il successo. Nel 2004 vince centro-sinistra, 2009 centro-destra, centro-sinistra, centro-destra. Quindi la Toddi e il centro-sinistra devono essere bravi nel far presa sul fatto che ok la Meloni ha fatto questo bel maquillage ma dietro c'è la stessa gente, dietro c'è la stessa Lega, dietro c'è lo stesso Fratelli d'Italia perché dietro Solinas c'era quella gente lì. E questo è il punto. Altrimenti si parla di cose così, massimi sistemi. Però Truzzo è Truzzo, è stato uno dei peggiori sindaci dell'ultima gestione dell'ultima mandata. Luca Telese, tu che conosci bene anche la città di Cagliari, sei d'accordo con quello che sta dicendo Scanzi? Rapido? Beh c'è molto malcontento, però il punto è che c'è una battuta divertente che ha fatto ieri il segretario del PD Sardo, ha detto che dentro Truzzo c'è Solinas. So che è un fenomeno fisico complesso ma è un po' così. Ma soprattutto c'è la faccia della Meloni. Cioè è la Meloni che ha cacciato Solinas e ha messo la sua faccia, non quella del suo candidato sugli autobus. Adesso se vince qui questo metodo fa fuori pure Zaia con la leggina sul terzo mandato. Quindi ecco perché è una partita nazionale, Anna Lisa, è la prova dei pieni poteri. La prova dei pieni poteri, tra l'altro ho parlato anche di premierato stasera. C'è sempre la dita tua, andiamo a finire. No, 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 non sai cosa, quando parliamo di premierato non sappiamo di cosa stiamo parlando perché non c'è, non sappiamo quale legge elettorale dovrebbe esserci, non conosciamo nessun dettaglio, è una roba in fieri, va bene. Comunque facciamo vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci riporta, ci porta anzi perché stasera ancora non siamo andati a Mosca e non abbiamo parlato di Putin. Guardate. In Occidente gli alleati che si è scelto Putin sono i partiti sovranisti e i movimenti neofascisti, ma ciò nonostante c'è ancora un pezzo di sinistra che in Italia tifa Putin in nome delle antiche affinità ideali con una Russia che allora si chiamava Unione Sovietica. A questi, chiamiamoli così sinceri democratici, va raccomandata la lettura di un libro pubblicato da PM e dedicato alle ossessioni ideologiche del leader del Cremlino. Si intitola La Russia moralizzatrice e lo ha scritto Marta Allevato, giornalista che ha vissuto molti anni a Mosca e che ora, intrecciando cronache, analisi ed esperienze personali, ripercorre a ritroso la guerra culturale che Putin ha lanciato contro l'Occidente. I nemici sono liberalismo, secolarismo, pacifismo, omosessualità, femminismo, presi di mira con leggi e campagne persecutorie nel contesto di un sistema sempre più autoritario. Eppure fino a pochi anni fa a Mosca fiorivano i media indipendenti, internet era un vero spazio di dibattito e informazione alternativa, l'attivismo di base si aggregava intorno a piccole ma sentite cause come quella ambientalista, si aprivano spazi culturali d'avanguardia, musei dal respiro internazionale, si parlava pubblicamente di diritti delle minoranze sessuali, di uguaglianza di genere, di lotta alla corruzione, c'era voglia di fare politica. Tutto questo è stato spazzato via da Putin insieme a ogni forma di opposizione. Oggi la società russa è piegata da una propaganda che predica la fede in Dio, il sacrificio per la patria, la sacralità dei vincoli familiari, Dio, patria e famiglia appunto, motto che in politica caratterizza i reazionari di ogni epoca e continente. Siamo in chiusura, grazie Luca Telese, grazie Andrea Scanzi, grazie Annalisa Terranova, grazie spettatrici e spettatori, linea Aldo Cazzull alla sua giornata particolare dal titolo La violenza su Artemisia Gentileschi. Quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo. Arrivederci.